E' bello a tutti e bell'ultimo di questo nuovo primo video Siamo qui alla billetta di Sartano, non so perchè Però il nostro primo video lo volevamo fare in compagnia di questo ospite che ci sarà sempre nel nostro video Che sarebbe il secondo partecipante, solo che questo qui fa cagare il video e quindi facciamo così Ma adesso ti presentiamo, io mi chiamo Mattia e lui si chiama... Maurizio Ecco, sai non parla bene, non è colpa, è il destino Non ho sputato E i cognomi non li volete sapere, no, ovviamente no Ma chi cazzo lì vuole sapere Stiamo facendo questo primo video proprio per diventare famose Dopo fare tanti followers Quello che non abbiamo sono dei due Perchè lui non c'è Instagram, ma io ce l'ho però non faccio follower Però facciamo finta di... E praticamente, là ci sono degli altri nostri amici Che andiamo a seguire, raga, il nostro primo video spie Mizzica, però non so... Il nostro primo video spie, dai, dai Mizzica, raga, loro se non lo sanno ci ammazzano Sono là in fondo, se li vedete Mio, questo è il campetto Dobbiamo stare... Dobbiamo stare in silenzio Cioè, perchè loro sanno che stiamo facendo un video su YouTube Però non sanno che li stiamo spiando Quindi adesso volevamo essere così... Volevamo spiarli proprio... Perchè abbiamo 10 se ci è venuto questo Sono lì, raga Vogliamo sapere che fanno quanto vanno in giro senza di noi Vogliamo vedere che ci dicono Vedete lasciate Venti mille like No, almeno mille, dai Mille like, allora Per questo video, dai, dai, raga Mille like, che cazzo Ora se abbiamo zero iscritti Raga, quanto ritornano indietro Andiamo dietro questo cestino Sì Stozzate Ecco, stanno ritornando Ok Volevamo C'è il tuo O, P, O, P Dai Possiamo andare Mori, di una parola Raga, Mori ci ha detto mille like Il nostro video vuole mille like E tanti iscritti Almeno 200 Va, può essere la qualità di merda Però, va, dai, rai Una qualità di merda che ci possiamo fare E noi facciamo un altro video Facciamo l'episodio 2 delle spiglie, raga Cazzo Raga, l'episodio 2 delle spie Mori non aprire che si spoglie L'episodio 2 delle spie Stanno arrivando Raga, a me non mi hanno scoperto Ancora Però dobbiamo Dobbiamo scappare Dobbiamo stare qua per certi minuti Raga, come spiene siamo un fallimento C'è Raga, erano là, raga Non posso girare la telecamera Non so perché Quindi Devo proprio tirare il telefono Miglia, cazzo Raga Hanno scoperto all'ospite speciale C'è Maurizio No Hanno scoperto a Maurizio Sì, cazzo Eccolo Ecco lì Sono tutti lì Ci vedono E vabbè Sono tipo lì Miezi No Scusate se non si vede bene Ma farei di tutto per farvi vedere bene È proprio molto peccoloso Farei di tutto per farvi vedere bene Potrei girare la fotocamera Potrei rompere il telefono Potrei fare di tutto Per farvi vedere quello che succede bene Dai Mi raga Sono tipo lì In fondo Stanno ritornando indietro Maurizio Scappa Cazzo Scappa Abbiamo trovato altri ragazzi Doventi se si vede Aspetta Ecco sono quelle cose che camminano Però se non si vede bene Si aspetta Tipo quelle là In fondo Allora Dopo si vedono No? Sì Però non sono nostri amici Perché noi li conosciamo Se non volevo Ragazzi Sono Anna e Mennuemi Quei tre Ragazzi Ragazzi Sono spinto L'oggetto Non so Non so Infatti Siamo nel mezzo Del buio Scusate ma Nel mezzo Del buio Non so Scusate ok Sono qui Ha visto Maurizio Eccoli Sono lì Sono lì in fondo Scusate Maurizio Raga Alceteli Devo filmare Eccoli Scappiamo Raga Raga È un portello Ci possiamo per fermare Non posso niente Versare la strada Eh Devo finire proprio Adesso il film No ma che film È il video Per questo nuovo video Dai Di nuovo Mille like Richiedo Anche cento Anche cento Ci va bene Se vogliono Tutti i like Tranne zero E di dislike Dovete metterne Almeno Dieci Anche zero Se volete Per favore Io dico Di zero E almeno Cinquecento Quattrocento Like Per questo Nuovo video Delle spie Non vi abbiamo fatto Vedere Come fanno Tutti Noi abbiamo In fatto Nel frattempo Che stavamo Facendo il video Proprio Abbiamo Abbiamo Fatto sto gioco Di spiarle No Qua ci sono dei cani Di spiare nel video Dai Adesso Andiamo Mori Tu mi devi seguire A me Eccoli Sono quelli Sì No Non sono quelli Adesso Ti avevamo Visti Raga Adesso In super Concentrazione Dobbiamo Fare Dobbiamo sfiarli E dobbiamo Vedere Che fanno Mira Avete sentito No Cioè Avete sentito No Mi sono venuti I brividi Per quel Cosa Cioè Mi raga Diciamo Avete sentito Mi stanno venendo I brividi Cioè Non so Mi stanno venendo I brividi Per quella Cosa Mira Mi stanno venendo I brividi Raga Per questo Video È tutto I piccoli Abbiamo fatte Il secondo Episodio Lo faremo Tranquilli Non so Quale giorno Ma Forse domani